Il numero 18 è montato da Dario Agosta, 75 e 50 il tempo di gioioso di Bosco Chiaro di cui 12 agli ostacoli il tempo effettivo è stato di 63 e 50. Il numero 18 è montato da Dario Agosta, 75 e 50. Il numero 18 è montato da Dario Agosta, 75 e 50. Il numero 18 è montato da Dario Agosta, 75 e 50. Il numero 18 è montato da Dario Agosta, 75 e 50.